Se il sindaco vuole fare una breve saluta. Allora, sono stato preso la scordista ma vorrei intervenire da sindaco pensando al futuro. Dobbiamo molto all'incontrare anche in questa città. Quindi abbiamo pensato come al futuro e pensiamo che il nome di Anderata può interpretare meglio anche le nuove parti di città che stanno nascendo e che stanno assorbendo. Quindi era solo per dire che passate le elezioni è nostra intenzione dopo tanto tempo riconoscere a Nino una nostra nuova piazza molto bella e molto coperta che nascerà vicino alla sede del Comune a Liber Paradiso. Pensiamo che interpretiamo meglio. La parola di libertà è sicura. Un ringrazio per il crescento Bologna come sede della prima lettura perché abbiamo bisogno in questa città di dire all'intero paese che non abbiamo bisogno di partiti fai da te, non abbiamo bisogno di io ripetuto troppe volte, ma abbiamo bisogno di una nuova prospettiva. Grazie.